Noi richiediamo che ci sia da parte del Governo e poi chiaramente del Parlamento un'attenzione per certi versi come è stata per la pandemia, come il Covid. È vissuto come un vero e proprio flagello il caro bollette. In questo caso siamo alla IWW nel Valdarno Aretino. L'ultima bolletta del gas ha superato i 150 mila euro. L'azienda dovrà per forza stoppare la produzione dal prossimo 15 di febbraio. Speriamo per il minor tempo possibile. Ci spiega perché ai nostri microfoni l'amministratore delegato. Nel nostro bilancio ormai è diventato forse il costo principale, addirittura superiore al costo del personale. Se pensiamo che noi venerdì scorso abbiamo ricevuto la bolletta relativa al mese di dicembre ed è ben 150 mila euro contro circa i 35-37 dei primi mesi del 2021. Il 2021 per la storica vetreria del Valdarno Aretino era andato peraltro molto bene. Aveva cominciato bene anche il 2022, poi la stangata del caro bollette. Qui si rischia veramente la perdita di interi comparti, non soltanto di veterie ma anche di altri e quindi direi anziché magari pagare la cassa integrazione farla lavorare. Da qui la scelta dell'azienda di fermare la produzione dal prossimo 15 di febbraio in tutto circa 25 le persone che potrebbero finire a casa in cassa integrazione a ore zero. Rimarrà chiaramente l'attività commerciale, quindi l'azienda che voglio dare è anche un segnale che guardi al futuro perché noi abbiamo anticipato proprio la produzione per essere pronti a questa data. Noi abbiamo bisogno di risposte immediate, già la prima bozza del decreto che ancora non è stata promulgata prevede un piccolo intervento, spero che sia ritoccato chiaramente perché sarebbe pochissimo a partire dal primo gennaio 2022. Ma noi l'aumento forte è iniziato a partire da ottobre. Vi ho detto prima la bolletta di dicembre che è arrivata, quindi questi ultimi tre mesi dell'anno vanno nel dimenticatoio. Cioè noi chiediamo sia chiaramente all'ente governo sia naturalmente alla regione che si è dichiarata disponibile come ha fatto la regione Veneto per esempio con le veterie di Murano che è intervenuta in maniera sostanziosa.